Oggi noi presentiamo qui una proposta concreta, lo facciamo nello spirito di voler dare un contributo concreto a risolvere dei problemi e a scongiurare dei rischi, perché noi corriamo concretamente il rischio di non avere delle opere fondamentali per la mobilità, per l'accessibilità della capitale e per lo svolgimento del giubileo pronte in tempo. Abbiamo persino il rischio che una di queste opere fondamentali esca dal PNRR, cioè dal recovery plan e quindi non venga realizzato o venga realizzata in tempi molto lunghi. Naturalmente questo rischio è la conseguenza di errori molto concreti che sono stati svolti dall'attuale amministrazione, limiti di progettazione. Poi un altro problema che riguarda un'altra opera, una metropolitana, delle responsabilità molto chiare nella stagione di governo del centrodestra.